Sarà anche la seconda economia del mondo con una classe media la cui capacità di spesa fa gola a tutti gli operatori, ma complice la difficoltà di trattare con fornitori e autorità, la Cina si sta dimostrando una cassaforte difficile da forzare. Lo sa bene Tesco, catena britannica di supermercati, costretta ad alzare bandiera bianca e a fare ciò che hanno già fatto tante aziende occidentali, fondere le proprie operazioni, in perdita nel suo caso, con un'azienda del posto, una ritirata simile a quella già vista in Giappone che precede l'uscita già annunciata dagli Stati Uniti. L'azienda, in difficoltà negli ultimi mesi, ha deciso di concentrarsi sul mercato casalingo della Gran Bretagna.